Sapevo di trovarti qui. È stata dura anche per te. È stata dura per entrambi in questi ultimi anni. Qui restano solo fantasmi. Ti do un consiglio. Vattene finché puoi. Se non vuoi impazzire. E credimi, ne so qualcosa. A dieci minuti da qui c'è un ristorante e troverai un telefono. Non tornare più. Qui non c'è niente per te. Iscriviti al Kiri. Stiamo deviando il traffico a Little Hope. Eh, tutto ok? All'aria di uno un po' confuso. Sì, sto bene. Voglio soltanto portarli a destinazione. Dubito che un lieve ritardo possa causare disagi. Ma la smettete di parlare! Non è così che troveremo aiuto. E neanche una via d'uscita. Nela, come va? Mi scusi, stiamo cercando il nostro autista. Come? L'ha visto? Sì, divertente. Perché non ti bevi un bicchiere? Meglio di no, grazie. Devo restare lucido. Non mi sembra il caso di bere ora. Non è il momento migliore. Ho solo questo ormai. Ehi! Dico a te, stronzo! Perché diavolo mi hai sparato? Non ti nascondere! Ehi, calma, io... volevo solo aiutarti. Non hai visto quel mostro? Ma di che cosa parli? Qui non c'è nessun mostro! Ehi! Dubito si renda conto in che casino siamo. Fuori il altro euro Uno scorso Oro Un petro assumptions Scopo P secondoسم La peraba learnta Un petro Un petro Grazie.